Ad Ostia Ponente, da via Marino Fasan fino a piazza Gasparri, gli ascensori funzionanti sono una chimera. Anziani ed invallidi sono prigionieri in casa. Sono un mese e mezzo esatto che l'ascensore qui da me è rotta. Io contesto il fatto perché sto al quarto piano, sono immunodepressa, ho la leucemia e in più ho una protesia all'anca destra. Per farmi quattro piani di scale ci metto esattamente un quarto d'ora. Non è possibile. In più, mettiamoci che uno deve fare una spesa, si scorda qualcosa in macchina e scende e risali, non se ne può più. Siamo completamente dimenticati. Io adesso a chi devo rivolgermi per questo ascensore? Anche perché terzo piano c'è una signora anziana che non esce da un mese e mezzo. Fortunatamente viene il figlio, ogni tanto fa la spesa. Ci sono anche qui malati oltre a me, non solo io. bambini piccoli, quindi all'ultimo piano una signora ha partorito da poco e incolle il passeggino. Non se ne può più. L'ascensore è senza luce. Io ho telefonato giù, io ho telefonato quattro o cinque volte, l'ho visto qua, mi hanno preso un giro. Sì signora, ma veniamo a mettere. Te la compro io la lampadina, basta che lo venite a mettere. È oscuro dentro l'ascensore. Non può essere, sono venti telefonati. Poi c'è gente con la carrozzina. Io ho mio mario che deve scendere con la carrozzina. Ma dove sei mai visto? La pigione la paga, non è che mi ha ricato la casa. C'è una porta che è sempre fissa. Entri, uno se ne scorda, la lascia così, ci sarebbe stata la molla, no? Quando che chiude. E invece no, rimane ferma. La gente da sopra che aspetta e invece sta ferma là. Ma ci vorrebbe qualcuno che era giusta. Non vi è nessuno. Noi chiamiamo l'ascensorista, ma non so chi è dal comune, chi è interessato. Però, sì, 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 ok. Non vi è nessuno. L'ascensore, siamo stati all'ufficio tecnico per poter fare un esposto. L'ufficio tecnico ha detto che sarebbe venuto entro 15 giorni, ma sono sette mesi che stanno così con una porta ferma, che non si chiude, neanche si apre. Quindi stanno a disagio tutti quanti. Io sono giovane, posso fare scale, ma i cittadini vecchietti non le possono fare. E anche nel parco Willy Ferrero, sempre ad Ostia Nuova, tocca ai cittadini fronteggiare incuria e degrado. Qui c'erano siringhe, c'erano di tutto e di più. Noi cittadini abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Se non vengono le istituzioni a darci una mano, che cosa facciamo? Siamo così? Non si può, no?